Nuovi vigili in arrivo per contrastare gli sversatori illegali di rifiuti. Il grande lavoro che l'amministrazione Canfora sta effettuando nell'ambito della raccolta differenziata viene infatti spesso sminuito dalla mancanza di collaborazione dei cittadini. Servono dunque più controlli. Molti di loro evadono la tassa e non solo non pagano quanto dovuto al Comune, ma sono anche i primi a non conferire correttamente i rifiuti, provocando disagi invece a quei cittadini che effettuano la raccolta differenziata così come indicato dal calendario. Il sindaco Canfora ha annunciato la possibilità di più controlli, oltre alle pene già inasprite, attraverso l'utilizzo di nuovi vigili urbani. È probabile infatti che dalla provincia di Salerno giungano uomini della polizia provinciale che saranno dislocati su tutto il territorio sarnese. La differenziata funzionava al 50%. C'era un 50% dei cittadini che per dieci anni non l'hanno mai fatta. Insomma la verità è questa. Non pagando la tassa. Certamente, perché se c'è una evasione della tassa cospicua, vuol dire che chi evade non ha nessun senso di responsabilità a farla differenziale. Se io non pago, per quale motivo devo adeguarmi e devo educarmi a fare meglio le cose. E tutta l'amministrazione è presa, come dire, non soltanto a educare e quindi a prevenire, ma soprattutto a reprimere. Cioè noi stiamo svolgendo insieme ai vigili urbani, e ho chiesto in prefettura anche un aiuto da questo punto di vista, che mi sarà dato, mi sarà concesso. Spero che effettivamente, insomma, chiudendo il portale della provincia, probabilmente in mobilità interprovinciale, interregionale, un po' di vigili urbani arriverà. Perché il 40%, cioè se c'è una parte dei cittadini che non paga, e che è abituato a non pagare, sia con le forze del Comune, perché dobbiamo mettere a regime chi non paga. Dall'altra abbiamo inasprite le sanzioni, portandolo fino a 3.000 euro. Del resto stiamo insieme ai vigili urbani procedendo su tutto il territorio a dei controlli. Abbiamo beccato già tantissime persone. Queste persone saranno sanzionate. Mi preparo a fare altre ordinanze, perché certamente c'è una pigrizia, un abbandono, una sciatteria che non è certamente auspicabile per un Paese civile.